Non sono passati nemmeno 30 giorni dalla sua apertura e già i ladri gli hanno fatto visita Difficile ricostruire la dinamica del numero delle persone che hanno partecipato al furto con scasso data l'assenza di videosorveglianza interna Di certo si sa che avevano fretta perché una volta forzata la seratura della vetrina hanno arraffato ciò che avevano più a portata di mano e senza perdere molto tempo E' accaduto al negozio Marilenia in corso Matteotti Affano che sabato 3 settembre ha aperto i battenti Un negozio di abbigliamento casual elegante per una clientela giovane e giovanile Tante le aspettative e l'entusiasmo della titolare che da anni opera nel settore e che sa bene quali sono i rischi e i costi di chi intraprende un'attività commerciale Ed è proprio per questo che nelle parole della titolare si sente tutto lo scoramento e l'amarezza del momento E venire al negozio e vedere che ti sono venuti i ladri è una cosa brutta Poi il fatto coperto solo da una settimana già si rincomincia Io penso che sono i dispetti delle persone cattive Poi la serratura rotta, aperta adesso con i buffi perché uno apre e giustamente impegna dei soldi Altri soldi ancora, rimettere ancora serratura nuova Cosa ti hanno portato via? Hanno portato via tutta la roba della vetrina, tutta la roba dell'imperria, tutta roba da uomo Talla 46-48 più o meno per cui un uomo, tutta roba da uomo Sui 15 pezzi più o meno, 15-20 pezzi tutta roba imperial Portati via dai ladri una quindicina di capi in tutto Completamente ignorati alcuni oggetti d'argento frutto dei regali del giorno dell'inaugurazione e la cassa Ora, come ci ha detto la titolare, si attendono gli esiti delle indagini Ma nel frattempo si corre ai ripari con nuovi dispositivi di sicurezza e nuove serrature Grazie 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 Grazie